La Giostra delle Anime è un romanzo che vi porterà in un mondo magico, che vi metterà davanti un bivio, in cui dovrete scegliere dove stare, bene o male. Ma cominciamo dall'inizio, come ho scoperto questo libro? Nel modo più classico, in libreria. Avete presente quando una copertina vi colpisce? Prendete il libro, leggete la trama e dite, wow, questo devo leggerlo. Ecco, a me è successo proprio questo. Ho cominciato a leggerlo e subito quelle poche righe mi hanno portato in un mondo misterioso, in cui però sono stata soltanto due giorni perché ho finito il libro subito. E qual è l'ingrediente segreto di questa storia? L'atmosfera che si crea leggendola. Pagina dopo pagina si forma dentro e intorno a te una bolla, la tua bolla, lontana da tutto e tutti, piena di mistero sulla vita dei personaggi in cui non si riesce a smettere di girare le pagine per scoprire tutto di loro. Ma alla fine, perché leggere questo libro? Perché è come stare sulle montagne russe, come vivere una vita parallela fatta di magia, famiglia, acqua e fuoco.